and hello everybody qui vedete sempre in mezzo alle piante il nostro signore della natura quindi noi quindi allenandoci tutti i giorni e quindi cerchiamo di migliorare e quindi le soluzioni già trovate e col metodo stefi god 76 di trovarne altre più efficaci e quindi i vari abiti ecco vedete questa è una una bacinella che è un sito è una bacinella che ho comprato così per lavare un po la roba a mano oppure con la manovella come da foto del mio profilo facebook che poi metterò nel mio website e quindi la soluzione è che si può usare la sto usando con molta efficacia e quindi la sto usando per raccogliere l'acqua della doccia e quindi quei quei 20 30 litri che usiamo circa per farci la doccia e la uso quindi per quindi la uso al posto dello dello sciacquone e quindi per le feci e quindi ricordate che per l'urina già abbiamo risolto quindi risparmiando quei 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 9 quegli 8 9 litri ogni volta e anche per le feci quindi sono 20 litri risparmiati perché questo quindi 20 litri si può usare al posto dello sciacquone io la sto usando con grande efficacia è un ulteriore risparmio e quindi abbiamo migliorato ulteriormente noi proponiamo sempre soluzioni efficaci perché non sempre si può geniali e questo è un'altra se sommate quindi nuovo modo di fare il bidet per risparmiare più veloce più pratico e più igienico e quindi risparmiare acqua per l'urina la pipì più questo risparmio acqua sciacquone anche per le feci quindi prendendo dalla doccia e siamo già un risparmio di 100 litri al giorno 100 litri al giorno a persona a quale si può si possono sommare quei 20 litri se si lavano i calzini l'intimo e le t-shirt qui nella bacinella e quindi insomma sono 100 litri di acqua al giorno risparmiati è una cosa colossale sempre di corsa e quindi questo lo volevo fare e quindi ci prepariamo a tre mesi per la natività solenne e faremo poi delle verifiche per premiare i più virtuosi del risparmio d'acqua sono supremi e insomma grandi occasioni a più tardi cioè a più tardi e ci aggiorniamo comunque tre mesi della natività solenne faremo il massimo come in questi ultimi 5-6 anni grazie da Steffi grazie a tutti